Ciao e bentornati in questo canale. Oggi in questo video parleremo dell'inflazione. Avete mai fatto caso che il caffè qualche anno fa costava 80 centesimi o magari un cono piccolo gelato costava un euro? Mentre adesso questi stessi beni costano praticamente il doppio? Questi aumenti di prezzo hanno un unico responsabile, ovvero l'inflazione. In pratica l'attuale sistema monetario funziona e va avanti stampando sempre nuovo denaro e nuova moneta. Ma cosa succede quando si ha abbondanza di qualcosa? Beh, semplice, come per tutte le altre cose il suo valore scende. È per questo che l'oro costa più della plastica oppure l'acqua, anche se è più necessaria, costa meno dei diamanti. Certo sarebbe bello regalare alla propria ragazza a San Valentino un bicchiere d'acqua invece di un anello di diamanti. Ecco, la stessa cosa funziona con il denaro. Più viene stampato e meno vale quello attualmente in circolazione. È per questo che aumenta sempre di più, anno dopo anno, il prezzo per un gelato, per una lattina di Coca-Cola, per fare la spesa, oppure anche per prendere un caffè al bar. Quello su cui mi vorrei concentrare però è che l'inflazione non è un qualcosa che a volte capita e a volte no, o comunque un qualcosa di indesiderato. Penso sia fondamentale capire che l'inflazione è un qualcosa di sistemico, è un qualcosa voluto dal sistema, dalle banche centrali, dai governi e dagli stati. In sostanza quindi non investendo e tenendo i propri soldi fermi sul conto corrente, stiamo lasciando che anno dopo anno il nostro potere di acquisto sia sempre inferiore. In pratica se avessi avuto dieci anni fa 100.000 euro mi sarei potuto comprare 100.000 con i gelati, visto che costavano un euro. Oggi con 100.000 euro mi posso comprare solamente 50.000 gelati, questo perché costano il doppio. Quindi in pratica il numero che vedo sul conto corrente è sempre lo stesso, però ecco qui che a causa dell'inflazione quello che posso comprare con 100.000 euro è molto inferiore rispetto a quello che avrei potuto comprare sempre con 100.000 euro ma qualche anno prima. Considera che l'inflazione in Italia è stata in media negli ultimi anni, secondo i dati di stat, di circa il 2% all'anno. E che vuol dire che se tu avessi avuto 100.000 euro in banca, negli ultimi cinque anni avresti perso 10.000 euro senza neanche accorgertene. E questo è un esempio considerando l'inflazione anche bassa, ovvero del 2%. Ti basta considerare però che negli anni passati, come negli anni 70-80, l'inflazione è stata anche del 15 o 20% all'anno, facendo perdere quindi a ogni risparmiatore che abbia tenuto i soldi in contanti oppure fermi sul conto corrente, tantissimi soldi. Insomma abbiamo capito che se si vuole proteggere oppure mantenere il proprio capitale, che magari abbiamo accumulato con tanto lavoro e fatica, scegliere di non investire non è sicuramente la scelta giusta, perché di fatto si sta scegliendo inconsapevolmente di investire comunque in un asset, ovvero la liquidità, che probabilmente tra gli asset è uno dei peggiori, visto che garantisce sicure perdite e mai guadagni. Come se ciò non bastasse, solamente nel 2020 sono stati stampati più soldi di quanti non ne siano mai stati stampati negli ultimi 200 anni. Ed è proprio per questo che si stima che nei prossimi anni l'inflazione tornerà anche a salire. E quelli che ci rimetteranno di più saranno tutti quelli che hanno scelto di non investire, scegliendo di accantonare i propri soldi su un conto corrente e tenendoli in lì fermi. Magari in un prossimo video andremo a vedere perché il sistema monetario attuale funziona così e soprattutto come difendersi dall'inflazione. Un saluto e alla prossima!